Consiglio per una preghiera migliore. Molti mi scrivono e mi chiedono a Abdelbaki come posso migliorare la mia preghiera, come vivere la preghiera con più khushue. Al netto del fatto che è una questione di allenamento ed è una questione di piccoli miglioramenti continui in cui ogni volta ci si deve porre degli obiettivi sempre maggiori, al netto di questo, quindi al netto di questa logica di miglioramento continuo e al netto della consapevolezza che non tutte le preghiere sono uguali, quindi ci sono degli alti e bassi per tutti. Detto questo ci sono delle pratiche che aiutano a fare meglio la preghiera. Una delle pratiche che mi ha aiutato di più nella mia vita è quella di prendermi 30 secondi, un minuto, prima della preghiera e fare un po' di digra, che sia il tasbih, il hamd, cioè subhanallah oppure alhamdulillah o al sigfar, perché questa cosa qui ti fa entrare nel mood. Poi fare la preghiera e dopo la preghiera fare un altro minuto.